Che meraviglia, bellissimo, siamo qui ospiti di Giuseppe e Pamela, siamo in questo bellissimo posto che devo dire ci ha lasciato a bocca aperta, non ci aspettavamo di trovare tanta bellezza, quindi è tanto buon gusto soprattutto, quindi complimenti a Giuseppe e Pamela che hanno realizzato tutto quello che vedete attorno a noi, che ne vedete poco ma in realtà c'è tanto, tanta roba intorno a noi, grazie perché l'ospitalità non è mancata, il senso dell'ospitalità non è mancato, la gentilezza, ci sentiamo veramente dei re stasera, quindi grazie a tutti, grazie infinite e speriamo di rivederci presto, anzi una promessa, torneremo e staremo molto di più, buonanotte, ciao!